Marco Leone, giocatore dell'Ottomila Calcio, autore del gol quasi allo scadere della partita che ha permesso all'Ottomila Calcio di pareggiare. Un commento veloce sulla partita? Indubbiamente è stata una partita combattuta, l'altra squadra ha iniziato meglio di noi e poi è calata come preparazione, è emersa la nostra preparazione fisica e per un tratto di partita abbiamo giocato anche meglio Comunque è stata una bella partita, il pari pensi che sia un risultato giustissimo Grazie